Cari naviganti, bentornati, 52esima puntata delle colonne d'Ercole. Allora, chi segue questo canale YouTube o chi segue la pagina sa bene che uno degli argomenti che trattiamo più spesso a parlare di colonne sonore sono le cosiddette rejected scores, ovvero quelle partiture che sono state commissionate a un compositore e poi per tutta una serie di ragioni, contrattuali, di tempistica, personali, musicali naturalmente, poi non sono state montate sul film per cui erano state commissionate, ma si è rivolti a un altro compositore. Quando parlo di questi casi che sono molto più frequenti di quanto uno potrebbe immaginare e che praticamente nella vita di un compositore di colonne sonore sono almeno una volta, a meno una volta tutti ci passano, quando parlo appunto di questa dinamica generalmente cerco di dare uguale peso sia al compositore A, cioè quello a cui è stata commissionata la prima partitura che poi è stata rifiutata, sia al compositore B o in certi casi i compositori B. Nella puntata di oggi invece e anche nella prossima il focus sarà in particolare più sul compositore A, cioè su quello a cui era stata commissionata la colonne sonora e che poi però non l'ha vista montare e quindi andare sul film. Oggi parliamo di Gabriel Yared. Allora perché ho chiamato la puntata di oggi quando aver vinto un Oscar non basta? Perché è esattamente la dinamica che è successa in questo caso, che poi succede anche in molti altri casi, in molte altre situazioni. Allora ripeto, il focus di oggi è su Gabriel Yared, Compositori libanese classe 1949. Yared nasce a Beirut, inizia a studiare musica da bambino, benché con risultati in un certo senso altalenati o quantomeno diciamo che il suo primo insegnante di pianoforte consiglia alla famiglia di lasciar perdere le lezioni perché fondamentalmente il ragazzo non è particolarmente portato per la musica. Per fortuna invece non vi è andato retto a questo insegnante. Yared continua a studiare, poi viene a contatto anche con, per caso, suonando in una chiesa come organista e viene a contatto con le musiche organistiche di Bach e da lì parte da ragazzino, intorno ai 14-15 anni, parte l'impulso irrefrenabile a comporre che poi insomma non lo abbandonerà per tutto il resto della vita. Cioè nonostante continuasse la musica, si lavorerà anche in legge e quindi insomma poi diventerà comunque uno dei compositori più interessanti a livello internazionale, lavorerà tanto e principalmente in Francia con tanti registi francesi, ma poi insomma avrà una carriera anche appunto internazionale. Comincia a scrivere la sua prima colonna sonora nel 1980 e più o meno va avanti scrivendo mediamente una colonna sonora all'anno, quindi non uno di quelli che ne scrive 4, 5, 6, 10 o addirittura di più in questi casi, perché Yared comunque è un compositore, come dire, che definire solo autore di colonna sonora sarebbe sicuramente riduttivo. Nel colonna sonora sono una parte importante della sua carriera ma non necessariamente l'unica insomma, diciamo così. Quindi dal 1980 a parte scrivendo le musiche per un fin di Jean-Luc Godard, poi lavorerà con Costa Gavras, lavorerà con con Jacques Cano, con Robert Altman, fino appunto arrivare al 1996 quando vincerà l'Oscar per le musiche del paziente inglese di Anthony Minghella. Come parte la sua carriera? Con un po' di fortuna come spesso capita e quasi sempre ci vuole. Nel 1971 lui ha 22 anni ed è in Brasile a trovare alcuni parenti. C'è in questo, nella città in cui lui è ospite, c'è un grande festival internazionale di musica e l'organizzatore di questo festival dice, senti tu sei libanese, non abbiamo nessuno che rappresenti il Libano in questo festival internazionale, hai voglia scrivere una canzone ed essere tu il rappresentante del Libano e lui insomma in maniera anche molto modesta, molto umile dice, ma non so, non ho mai scritto una canzone, non so se sono adatto, non ti preoccupare facciamo noi, ti diamo una mano, vabbè ma il testo, non ti preoccupare il testo, l'autore del testo lo troviamo noi, pensiamo noi a tutto, devi solo scriverla. Lui la scrive e la canzone è anche un ottimo successo, tant'è vero che poi successivamente al festival, insomma che lo vedrà appunto protagonista, inizierà anche un tour con un gruppo appositamente per la promozione di questa canzone che appunto in Brasile avrà molta risonanza e molto successo. Da lì comincia, ripeto, in maniera anche un po' fortuita, una fortunata carriera ancora prima che come compositore, come arrangiatore, come orchestratore, tant'è vero che nel 1975 lui farà gli arrangimenti e la produzione musicale della Bundi Mina, Mina Cantaluccio, uno dei più importanti tributi che Mina ha fatto a Lucio Battisti. Allora nel 1996, come ha detto, vince l'Oscar per le musiche del paziente inglese e ovviamente questa cosa gli dà una grande riconoscibilità internazionale. Da quel momento lui diventa anche un po', se vogliamo, il simbolo di una certa musica intimistica, romantica che andrà molto, come dire, che sarà una tendenza abbastanza diffusa nella fine degli anni, negli anni 90 a Hollywood. Per cui, stante questo successo, il regista Bill August, che vediamo in questa foto, lui è danese, spero di aver pronunciato il nome in maniera corretta, ma non ci giuro. Lo invita sul set del film che sta girando, cioè Le Miserables, con un ottimo cast, tra l'altro, con Liam Neeson, che nella seconda metà degli anni 90, insomma, è nel momento più alto della sua carriera, la sua carriera, insomma, che ha il suo esplan nel 1993, quel film Schindler's List. A proposito, se volete vi lascio il link in descrizione, se volete vedere la puntata relativa a Schindler's List, qua sotto se siete su YouTube e qua sopra se siete su Facebook. Ma non solo Liam Neeson, ma anche Geoffrey Rush, Uma Thurman, insomma, un grosso, grosso cast. Devo dire, grosso cast è tutto sommato un bel film, devo dire, nel complesso, che poi però non avrà un successo proporzionato alle aspettative che aveva generato. August si era fatto notare negli anni precedenti per due film di buon successo, come Il Senso di Smilla per la Neve e soprattutto La Casa degli Spiriti, che credo tutti abbiamo visto e tutti abbiamo amato. Quindi, dopo la vittoria dell'Oscar, invita Yared sul set e, così, per fargli cominciare ad annusare l'aria di questo film, gli commissiona la colonna sonora. Però subito cominciano una serie di incomprensioni tra il compositore e il regista. In particolare, Yared, in tante interviste, in tanti articoli scritti, in tante memorie della sua, della sua carriera, dice che il regista praticamente non era interessato in alcun modo alla musica, non gli dava nessuno spunto. A Debbie Rhodes, quando staranno registrando la colonna sonora con l'allonno Filarmonico Orchestra, il Red racconta che August era presente lì alle registrazioni, ma non fece un commento, non disse niente, neanche una critica, neanche... Niente di niente. Ovviamente questo, per onestà, come dire, per onestà di vedute, è quello che racconta Yared, insomma. Non ho la versione di August e ci sono anche una serie di cose che vedremo più avanti che, in realtà, come dire, non collimano con questa versione. Comunque, insomma, questa è la versione. Quindi, scarsa, come dire, comunicazione e scarso scambio artistico fra regista e compositore. Fondamentalmente, Yared racconterà che August voleva semplicemente dei droni e dei bassi. I droni sarebbero una serie di suoni tenuti, di cui a volte si cambia la frequenza, ma che, insomma, fondamentalmente consistono nello stesso materiale, neanche tematiche, ma proprio sonorti. Tipo una nota, una roba del genere, immaginate, insomma. Come meglio, uscivo con il mio potente mezzo vocale, ma, insomma, questo per farvi capire cos'è un drone. Addirittura, a un certo punto, August chiede a Yared di fare semplicemente una nota, una singola nota che lui avrebbe tenuto per tutta la scena. E allora Yared, un po' spiazzato, fa eseguire un fa a tutta l'orchestra, non capendo esattamente il senso della richiesta. In realtà, a voi non sembri strana questa cosa. C'è tutta una serie di tipologia di colonna sonora che è fatta, appunto, sui droni, sui bassi, sulle note tenute. E anche a me è capitato, per una colonna sonora che poi alla fine non ho scritto, la richiesta di queste note lunghissime, una nota tenuta anche per due, tre minuti di scena. Insomma, ripeto, mi rendo conto che la cosa può sembrare un po' strana, ma vi assicuro che la richiesta è una richiesta che alcuni registi fanno e che può accadere, insomma. Il regista, quindi, diciamo, in fase di scrittura di colonna sonora non dà delle particolari indicazioni a Yared, quindi lui fa quello che, secondo lui, è musicalmente giusto per il film e poi, insomma, quando poi si arriva al montaggio, ovviamente vengono fuori i problemi. Yared racconterà, sono quello che ha cercato in tutte le maniere di instaurare un rapporto, una relazione con August, ma che non c'è stato niente da fare, c'è stata una palese incomunicabilità, però sta di fatto che i due non si capiscono e che a un certo punto Yared viene praticamente licenziato dal progetto. Cosa che a lui, tra l'altro, lui racconterà, a un certo punto lui fa addirittura una liberazione, perché appunto, resosi conto che non sarebbe usciti da questa incommunicabilità che si è creata con il regista, diceva, vabbè, a un certo punto è stato meglio così. Sta di fatto appunto che la Toy Star, una volta che Yared viene fatto fuori dal progetto, stante anche i tempi che cominciano veramente a stringere, decide non solo di ingaggiare un compositore noto come Basil Poreduris, di cui magari parleremo in qualche prossima puntata, ma di seguire la cosa un po' più dai vicini, insomma, anche perché comunque loro vogliono una musica forte, epica, anche molta azione, una musica fondamentalmente non tanto diversa da quella che Yared dice di aver scritto, dice di aver scritto per il film, insomma, però sta di fatto che lui ormai è fuori dal progetto e Poreduris invece, insomma, si mette di buona lena e porta a casa il progetto. Sta di fatto che io, come dire, a me Yared piace molto, non lo conosco personalmente, insomma, però ho visto tante sue interviste, tanti suoi interventi, alcune sue masterclass, insomma, è una persona che mi piace, come dire, a pelle, diciamo così, insomma, per cui se lo essi crede tra lui e il regista, che non conosco ovviamente, sarei, come dire, istintivamente portato a parteggiare per lui e forse anche perché da compositore so quanto può essere brutto essere fatti fuori da un progetto, però sta di fatto che quando Poreduris entra nel progetto racconterà che non c'è stato assolutamente nessun problema di incomunicabilità con il regista, con Milo August, per cui le richieste dei droni, le richieste dei bassi tenuti, le richieste delle note lunghe due minuti, apparentemente scompaiono e Poreduris fa una colonna sonora bella, se vogliamo, anzi sicuramente una delle sue belle, ma ripeto, oggi non trattiamo tanto della musica quanto della dinamica, della dinamica del rejected score, magari ne parleremo prossimamente su una prossima puntata, e quindi fa una musica tradizionale, insomma, peraltro una musica abbastanza ottocentesca, almeno nelle intenzioni di Poreduris, più che poi nella realizzazione finale, nel senso, quello che Poreduris raccontò era fondamentalmente una cosa giusta, ma se ci facciamo tanti problemi per avere dei costumi che assomiglino veramente a quelli che usavano nell'ottocento, se ci facciamo giustamente tante attenzioni perché nella scena delle miserabili non passi un aereo perché gli aerei non esistevano, eccetera, eccetera, perché non dobbiamo fare in modo che la musica sia una musica comunque che richiami quel periodo lì, e quindi insomma, diciamo, nelle sue intenzioni fa una musica vagamente ispirata al romanticismo, al tardo romanticismo, a Berlioz, a Wagner, insomma, ecco, poi, ripeto, è una cosa che mi sembra più nelle intenzioni che nelle realizzazioni, lo dico da musicista, però insomma, non ha importanza, questa è stata la sua, questa è stata la sua intenzione e il suo approccio alla colonna sonora. Allora, cercato di essere equidistanti tra la posizione del regista e quella del compositore, vi dico che ci sono alcune cose del racconto di Ared che non tornano, cioè, innanzitutto non si capisce perché questa incommunicabilità che c'è stata tra lui e il regista, poi non c'è stata da fare il regista e il compositore che è stato chiamato dopo, poi non si capisce il fatto che comunque nei film precedenti che ha fatto August, in particolare quelli che abbiamo citato, cioè il senso di Smilla per la neve e la casa di spiriti, fatte da Zimmer, da Harry Gregson Williams, la colonna sonora sia assolutamente tradizionale, anche qui apparentemente non ci sono stati problemi di comunicazione fra i due. Non si capisce perché, anche ammettendo che August volesse fare dei droni e, come dire, è un approccio completamente diverso alla colonna sonora del proprio film, avesse dovuto farlo su film come Le Miserable, su film in costume, cioè va bene i droni, va bene le notte tenute, ma sono cose che si fanno generalmente sui film di ambientazione contemporanea, un certo film in costume. Per cui, insomma, un po' di cose che non tornano sul racconto di Ared ci sono al netto della simpatia che provo per lui. Comunque, insomma, il risultato negativo e la delusione comunque che porterà a casa per questo progetto sarà niente in confronto a quello che succederà con il prossimo film di cui gli rifiuteranno lo score e di cui parleremo alla prossima puntata, ovvero sia Troi. Ci vediamo alla prossima puntata.